Salve a tutti ragazzi, un buongiorno questa volta da un ambiente che ha sicuramente a che vedere con il nostro lavoro di ricerche paranormali, un cimitero antico del 1600. Volevo salutarvi e dirvi che se continuate a seguire le nostre indagini e le nostre live troverete del pane per i vostri denti se siete amanti del paranormale. Faremo cose parecchio interessanti, avete visto che ultimamente stiamo facendo queste indagini virtuali con l'aiuto di un acceleratore di campo elettromagnetico, quindi praticamente si va in modalità quantistica, ci si collega al campo astrale e lì si fa le domande a chi abita quel luogo dove ci siamo collegati. Bene ragazzi, seguiteci sempre, un abbraccio da Stefano, da tutto il gruppo GRP e buona domenica a tutti.